covid si potenziano i vaccini in età pediatrica sicurezza aumentano gli occhi delle telecamere su pesaro lotta all'evasione fiscale patto fra valle foglie e fiamme gialle anche pesaro alla sua maratona prima edizione il 30 gennaio buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi giovedì 20 gennaio che apriamo parlando del potenziamento della campagna vaccinale sul nostro territorio in particolare delle vaccinazioni anti covid in età pediatrica che sono partite da un mese e che ora vengono allargate con sedute al distretto sanitario pesarese di via nanter e alla casa della salute di montecchio a poco più di un mese dalla partenza dei vaccini anti covid anche per i bambini sopra i cinque anni le somministrazioni in età pediatrica si allargano ad un altro hub vaccinale strutturato su pesaro quello del distretto sanitario delle cinque torri un luogo da sempre deputato alle vaccinazioni in età infantile e che ora punta a costruirsi uno spazio con cadenza quanto meno settimanale in cui dedicare i pomeriggi ai vaccini anti covid per i bambini di età compresa fra cinque e undici anni primo appuntamento già fissato per mercoledì 2 febbraio noi avevamo già un un punto vaccinale pediatrico sulla casa della salute di valle foglia oltre ad esserci il punto vaccinale pediatrico sull'ospedale di urbino e su marche nord quindi a muraglia questo è un ulteriore punto vaccinale che apriamo per favorire l'accessibilità ai piccoli ai bambini piccoli da 5 e 11 anni è un punto vaccinale riconosciuto perché comunque dove si vaccinano i bambini normalmente per le altre vaccinazioni quindi in via nanterra e verrà aperto di mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 di 7 e 30 hanno dato la disponibilità quattro pediatri che hanno i loro studi su pesaro quindi bruno arcangeli eleonora bartolucci mauro mancino stefania tiberi che vaccinano anche nei propri ambulatori ma per cercare di aumentare il numero di vaccinazioni pediatriche e per dare più possibilità e più velocemente possibile di vaccinarsi visto la richiesta abbiamo deciso di darvi a disposizione questi locali saranno 30 vaccini 30 posti prenotabili sul portale della regione quindi su primula e poi ci saranno altri 20 posti che saranno prenotabili direttamente da parte delle segreterie dei pediatri le date sono già state aperte quindi su primula è già possibile prenotare da questa mattina tutti i mercoledì e per ora abbiamo aperto dal 2 febbraio fino al 16 di marzo poi probabilmente apriremo anche altre date e vediamo insomma intanto come va e se possiamo anche aumentare altri posti a seconda di com'è l'affluenza abbiamo tenuto un'affluenza con dei numeri contenuti perché comunque ogni bambino di solito accompagnato dai genitori anche a volte sia dal padre che dalla madre e quindi anche per la logistica per cercare di non fare assembramenti comunque dare tutto il tempo necessario ai genitori magari che hanno necessità di fare delle domande di chiedere delle precisazioni ai pediatri di avere tutto il tempo possibile ringrazio sempre la protezione civile che probabilmente anzi sicuramente ci aiuterà anche nella logistica di della gestione dell'apertura di questo ulteriore punto vaccinale vaccini potenziati anche fuori da pesero in particolare a valle foglia dove la casa della salute di montecchio riapre ai vaccini con le terze dosi dedicate a tutte le fasce d'età sopra i 12 anni dosi booster somministrate sempre di venerdì il 28 gennaio e il 4 e 18 febbraio e dai vaccini passiamo ai dati dei contagi che restano in linea agli ultimi giorni anche oggi numeri altissimi 6.905 nuovi casi di cui 1.713 nella provincia di pesero urbino sono però solo 699 i soggetti che presentano sintomi a risultare positivo e attualmente il 41 per cento dei tamponi processati l'incidenza da contagio continua a salire a 2.549 casi ogni 100.000 abitanti risultano invece in calo di 7 unità i ricoveri che scendono a 342 pazienti di cui 50 in terapia intensiva oggi si contano tre decessi di altrettante donne della provincia di pesero urbino una 63enne di san costanzo una 72enne di fermignano e una 90enne di fano ed ora cambiamo argomento perché la scorsa settimana siamo tornati ad occuparci dei ritardi ai lavori sul tribunale di pesero dove a fine dicembre è stata parzialmente riaperta la circolazione stradale su via san decenzio ma qui vengono rimandati di altri tre mesi lavori per la riqualificazione della pericolante parete laterale dell'edificio edificio la cui manutenzione straordinaria compete al ministero della giustizia ma sul quale ora l'opposizione in consiglio comunale intende vigilari attraverso la commissione controllo atti presieduta da roberto biagiotti convocata per martedì al fine di verificare tutti i documenti intercorsi in questi mesi fra comune ministero e ditte incaricate ai lavori ed ora ci occupiamo di sicurezza perché il comune di pesaro installa nuove telecamere aumentando la video sorveglianza in alcune zone sensibili della città dal parco miralfiore al quartiere di vismara ci spiega tutto l'assessore comunale enzo belloni abbiamo acquistato delle telecamere per posizionarle all'ingresso del parco miralfiori e nel quartiere di vismara dove nelle nelle ultime settimane si sono verificati gli atti vandalici al parco miralfiori ovviamente non ci nascondiamo dietro un dito è una zona che dobbiamo presidiare controllare e questo grazie al grande lavoro che si sta facendo con la prefettura con tutte le forze dell'ordine per gestire in qualche modo i controlli quello che ci preme a controllare che vorremmo fare attraverso la video sorveglianza e anche capire chi sono gli acquirenti perché se c'è qualcuno che arriva a spaccia c'è sempre qualcuno che compra e non è che sono tutti extracomunitari quelli che comprano quindi io penso che ci sono penso li vedo anche passando soggetti insomma che sono del chiaramente del territorio e se vogliamo schiantare questa piaga in quella zona della città bisogna capire chi è che va chi è che va a comperare ci siamo accorti che adesso avviene il tutto entrando al parco muovendosi in direzione della villa sul lato destro sul lato destro dove attualmente iniziamo ad intervenire per dare una pulizia dal sottobosco e per permettere anche alle forze dell'ordine una maggiore visuale nel frattempo c'è una volontà di controllare meglio quelle che sono le zone dove ci vengono segnalate situazioni un pochino più critiche e cioè il monumento della resistenza e il la zona del teatro del conservatorio scusatemi la zona di galleria di galleria roma e sono previsti pattugliamenti delle varie forze dell'ordine che si fanno la staffetta diciamo di controllo in questo in questo territorio ovviamente le segnalazioni dei cittadini sono sempre gradite rispetto a quelle che sono le emergenze e le esigenze e cercheremo di dare risposte a breve controllo sul territorio che diventa ancora più capillare anche in tema di evasione fiscale questo è il caso di Vallefoglia dove oggi è stato firmato un protocollo d'intesa fra il comune e il comando provinciale della guardia di finanza questo protocollo si inserisce in un percorso di maggior rafforzamento ovviamente della legalità che già abbiamo iniziato con altri comuni già abbiamo stipulato un protocollo analogo con il comune di Pesaro, di Fano e di Urbino e la volontà è quella lì di creare appunto una sinergia anche con i comuni per intercettare tutti quei fenomeni di evasione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche che sono fondamentali per fare in modo di ridistribuire questa ricchezza a chi ne ha effettivamente bisogno e quindi le fasce ovviamente più deboli delle popolazioni a me piace definire appunto la guardia di finanza come una moderna forza di polizia a forte vocazione sociale proprio perché grazie a questo impegno e quindi al individuare da subito fenomeni di evasione, fenomeni di indebita percezione ovviamente aiutiamo l'economia sana e quindi siamo vicini ritengo al contribuente al professionista, all'imprenditore, al cittadino onesto e che rispetta le regole A livello pratico proprio in cosa consiste questo protocollo? Cioè quali saranno gli interventi appunto pratici e fisici che farà appunto la guardia di finanza? Sì, ovviamente la guardia di finanza agisce anche su un percorso di autonomia cioè abbiamo a disposizione anche delle banche dati particolarmente performanti che ci consentono comunque di intercettare fenomeni di evasione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche come pure abbiamo pattuglie presenti sul territorio che consentono ovviamente di percepire da subito quali sono le anomalie del sistema economico e quindi di intervenire Il protocollo è un ulteriore strumento che consente appunto di percepire con l'ausilio appunto del funzionario comunale o di chi magari istruisce la pratica per l'erogazione di sovvenzioni o di aiuti nei confronti di contribuenti che in caso di anomalia ovviamente ci chiama e quindi abbiamo un ulteriore strumento che ci consente di indirizzare ancora meglio ovviamente la nostra azione La firma con la guardia di finanza in questo protocollo d'intesa per una presenza della guardia di finanza in un'area in forte crescita dal punto di vista economico e anche di rispetto delle regole Il rispetto delle regole vuol dire aumentare le entrate per dare risposte alle persone più bisognose va un forte ringraziamento alla guardia di finanza per una presenza in questo territorio per controllare i furbi e aiutare le persone più fragili e più deboli e fare in modo che le regole, una società democratica è tale se ci sono delle regole e le regole vengono rispettate Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad un furgone che nel primo pomeriggio di oggi si è incastrato nel sottopassaggio ferroviario di Pesaro fra via Bixio e via Vincenzo Rossi ignorando l'altezza del passaggio di 2,90 metri indicati dalla segnalettica stradale Sul posto è intervenuta la polizia locale per regolarizzare il traffico inevitabilmente bloccatosi nella circostanza e i vigili del fuoco che in circa un quarto d'ora hanno disincastrato il mezzo agganciandolo e tirandolo con un verricello L'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi ha annunciato lo stanziamento di altri 2 milioni di euro per il sostegno alla creazione d'impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi industriale complessa Risorse che consentiranno di rispondere a 106 progetti che erano collocati in graduatoria ma inizialmente non finanziabili Le risorse si aggiungono ai precedenti 3 milioni stanziati che hanno potuto soddisfare la realizzazione di altri 149 progetti di creazione d'impresa Domani 21 gennaio 2022 ricorre il 78esimo anniversario dello scoppio di Montecchio Tragico episodio che nel 1944 sconvolse la comunità montecchiese con l'esplosione di una polveriera tedesca che provocò la morte di 34 persone e il ferimento di un altro centinaio per un mai chiarito episodio di attentato, sabotaggio o tragica fatalità Il comune di Vallefoglia commemorerà la ricorrenza domani alle ore 18 con una messa nella chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio e la deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato in Piazza della Repubblica Mentre domenica 23 gennaio torna a Pesaro il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate L'appuntamento coordinato dall'Associazione Giacche Verdi vedrà confluire alle ore 11 di mattina in Piazza del Popolo tanti amici a quattro zampe accompagnati dai loro padroni quindi cani, gatti ma anche cricetti, asini e cavalli I cavalieri si ritroveranno alle 10.30 al Parco Miralfiore per poi sfilare fino al cuore del centro cittadino Continua il nostro appuntamento con la scoperta delle donne di genio premiate dall'omonimo concorso del terziario Donna Confcommercio Oggi quindi andiamo a conoscere Tisana una parafarmacia olistica fondata e gestita da Claudia Corbucci Tisana è una parafarmacia un po' atipica perché sicuramente forse entrando non ci assomiglia affatto però è nata da una mia volontà di riscoprire una cura naturale e una cura centrata sull'ascolto della persona e non solo sulla mera vendita ecco diciamo così ma proprio sul capire bene quali sono le cause e le ragioni che portano l'individuo ad avere dei problemi anche cronici o acuti quello che è però insomma capire bene che cosa c'è nel nocciolo ecco perché io di fatti non sono solo ma sono insieme ad altre persone con cui collaboro altri professionisti sicuramente della salute con cui a volte ci affianchiamo anche nel seguire la persona soprattutto perché c'è sempre un collegamento con le emozioni e quindi do molto spazio anche a quella parte Quindi all'interno di questa attività ci sono dei prodotti da acquistare ma ci sono anche delle consulenze che si possono richiedere? Sì sicuramente ho dei prodotti ho scelto tutte delle linee naturali un po' innovative però ci sono delle consulenze di persone specifiche ad esempio ci sono il biologo nutrizionista c'è uno psicologo abbiamo uno specialista in floriterapia quindi in fiori di bac e poi c'è anche un fisioterapista che fa la riflessologia perché è proprio diplomato in medicina cinese e sto cercando adesso una ostetrica E allora dove siamo esattamente? Dove si trova il negozio Tisana di Claudia Corbucci e soprattutto quali sono gli obiettivi per questo anno? Il negozio si trova proprio nel cuore del centro storico dove è in via Giovanelli 1-1 che è una piccola traversa tra via Morselli e via Abati e poco visto, è un po' nascosto però forse ho cercato proprio una via nascosta perché è un posto dove ho bisogno di tempo da dedicare alle persone e poi gli obiettivi per quest'anno sono sicuramente di farmi conoscere di più perché ho avuto diversi riscontri su questo proprio ho trovato persone che affiancate da me e dalle altre persone che con me lavorano insomma si sono trovate molto bene devo dire la verità e questa è stata per me una grossa soddisfazione quindi trovando più specialisti con cui collaborare e riuscire anche a raggiungere più persone in modo da risolvere più problemi Pesaro entra nel circuito delle Maratone Nazionali domenica 30 gennaio è infatti prevista la prima edizione della Pesaro Marathon che porterà tanti podisti a correre 42 chilometri costruiti in un suggestivo percorso fra Baia Flaminia, Lungomare e San Bartolo Pesaro si mette in marcia sui 42 chilometri della Maratona domenica 30 gennaio Baia Flaminia, Parco San Bartolo e Lungomare Pesarese ospiteranno infatti la prima edizione della Pesaro Marathon o meglio l'edizione zero come amano chiamarla gli organizzatori dell'associazione torinese Orta 10 in 10 che puntano a creare un appuntamento fisso su Pesaro nel calendario podistico nazionale Si parte da Baia Flaminia si sale su per Colle San Bartolo per poi ridiscendere a Baia Flaminia dove le distanze che sono due gli atleti che avranno partecipato alla mezza maratona avranno terminato la loro fatica mentre i maratoneti dovranno continuare per altri 21 chilometri che percorreranno interamente Lungomare per cui anche con paesaggi che possono aiutare nella fatica per poi fare il ritorno a Baia Flaminia dove concorreranno i loro 42 chilometri e 195 metri Quella di Pesaro è una maratona in anticipo sulle grandi classiche nazionali ma catalizzerà un gran numero di atleti per la concomitanza con l'Assemblea nazionale dei soci del Club Super Marathon Italia che il giorno prima, sabato 29 gennaio si riunirà al Baia Flaminia Hotel per eleggere il nuovo direttivo per i prossimi tre anni Bella per la città di Pesaro che sarà un weekend da super maratoneti visto che il giorno prima, appunto, nell'Otea Baia Flaminia si terrà l'Assemblea nazionale dei soci del Club Super Marathon atleti che per iscriversi a questo club devono aver corso in carriera almeno 50 maratone e dunque politica al sabato e festa alla domenica A dieci giorni dalla corsa sono pronte le iscrizioni Le iscrizioni sono aperte online sul sito www.icron.it Le quote di iscrizioni, come nella tradizione della nostra associazione sono popolari 20 euro per correre la mezza maratona e 40 euro per correre la maratona Ovviamente le iscrizioni sono aperte a tutti non solo ai soci del Club diciamo più che altro che i principianti potranno avvantaggiarsi di correre con i maratonetti più esperti d'Italia Questa manifestazione per tenere sotto controllo l'emergenza Covid e dunque tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass è sufficiente anche quello base tutti i partecipanti ammessi all'area di partenza e anche il personale dovrà essere munito di mascherina FFP2 ognuna di queste persone verrà tracciato a mezzo di un'ottica certificazione vi verrà misurata la temperatura in modo che tutto venga effettuato con criteri di sicurezza che più che mai sono indispensabili Chi parteciperà potrà farlo correndo al fianco di campionissimi come Luca Antonelli, Stefano Velatta Alberico di Cecco e per la Corsa in Rosa Monica Correale e Federica Moroni È stata presentata oggi in videoconferenza presso la sede della Regione Marche la 57esima edizione della Tirreno Adriatico di Ciclismo La competizione quest'anno partirà il 7 marzo dalla Toscana a Lido di Camaiore e si concluderà nelle Marche il 13 marzo con la cronometro di San Benedetto del Tronto La penultima tappa del 12 marzo sarà invece nella provincia di Pesaro Urbino con i 213 chilometri della Apecchio Carpegna Restando in tema di sport vi ricordiamo che questa sera alle ore 20.30 scende in campo la Carpegna Prosciutto Baschè Pesaro in trasferta a Brescia e a causa di questa concomitanza non andrà in onda la nostra consueta puntata di Insieme a Canestro che vi dà invece appuntamento al 27 gennaio Sabato dopo un mese senza partite torna in campo la Vis Pesaro che alle 14.30 ospiterà il Teramo allo Stadio Benelli Vis che oggi ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista 25enne Alberto Acquadro proveniente dal Siena Non riprenderà invece questo weekend il campionato dell'Alma Juventus Fano il match col Porto d'Ascoli viene infatti rinviato per i tanti casi di positività a Covid emersi nelle due squadre campionato fermo anche per l'Ital Service che però mette a segno due importanti rinnovi di contratto due colonne della squadra come Salas e De Oliveira allungano infatti la loro militanza con la società del presidente Pizza fino al 30 giugno 2024 e allora vi vado a ricordare ancora l'appuntamento che è slitato per questa sera con Insieme a Canestro infatti appunto questa sera in concomitanza con la partita della VL non si terrà la nostra diretta televisiva di Insieme a Canestro che invece tornerà giovedì 27 gennaio in diretta al consueto orario delle 21.20 e poi questa sera visto che siamo in tema di elezione del presidente della Repubblica vi facciamo vedere questo film il giovane Pertini racconto di un combattente per la libertà racconto di un presidente tanto amato quindi alle 21.20 vedrete questo film e poi vi ricordo anche che a partire da questa domenica Rossini TV sempre più attenta alle esigenze del nostro pubblico e alle vostre numerose richieste ha deciso di dedicare lo spazio e quindi trasmettere in diretta la messa della domenica alle ore 11 partiamo questa domenica con la diretta dal Santuario del Beato Sante di Monbaroccio ho detto davvero tutto adesso per voi c'è il meteo ricordatevi però che domani torna la nostra rassegna stampa con voi alle 7.20 ci sarà Daniele Sacchi io vi auguro una buona serata grazie a tutti